ragazzi allora bentorni da marco azzurro ho una prima immagine non è in esclusiva chiaramente perché non sono nessuno queste immagini l'avete già vista tutti ma adesso la commentiamo delle maglie del napoli perché oggi è arrivato il materiale a napoli al alla filmauro comunque è arrivato il kit che utilizzerà la squadra e quindi ragazzi sono arrivate le magliette allora ci sono delle prime immagini e da queste immagini si capisce tanto perché una maglietta buttata su una panchina dentro lo spogliatoio semplicemente ma ovviamente gli sponsor ragazzi sono messi nelle stesse condizioni dell'anno scorso questo ormai era chiaro e la maglia ragazzi non è proprio o quasi per nulla uguale a quella che era stata tra virgolette liccata o consettata insomma dall'idea che c'eravamo fatti quindi di una maglietta con un bel collo imponente e degli inserti neri sopra perché abbiamo gli inserti ci sono il collo però non sembrerebbe almeno da questa foto avere nessun bordino particolare e ci stanno delle maniche molto molto corte molto eleganti si deve essere sincero la maglia è molto semplice ragazzi non c'è alcun pattern sopra e quindi ragazzi anche quest'anno il napoli ha ufficialmente abbandonato l'idea di queste maglie più come dire fantasiose diciamo così però il discorso che mi preme molto secondo me adesso è vedere come saranno abbinati i pantaloncini perché i pantaloncini ragazzi spero che siano belli spero che non so mi sono davvero incuriosito da vedere la maglia tutto di un pezzo e non in una foto di stramacchio comunque ragazzi ormai mancano veramente due giorni alla presentazione dovrebbe essere annunciate il 20 quindi veramente si tratta di di robetta e la maglia la vedremo in campo contro il venezia quindi proprio alla prima di serie a speriamo bene noi ci vediamo alla prossima ragazzi sempre e comunque forza napoli iscrivetevi al canale commentate il video e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao